Io, 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 io Io, io, io Asconda, ma tutto a me Fabio, Fabio, lo fai a te Adesso questo Mi, che va a meno Oh, si Oh, da più Non fa un lavoro con l'intra Tu Bello Tutte le volte Alle due su Youtube Becchia Ah Camel Oh 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 Grazie a tutti. 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 Buongiorno, buongiorno a voi. E' un'altra cosa che ogni tanto ci vediamo. Buongiorno, buongiorno. 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 Facciamo mia papà, ci può mia ancora nel 2000. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no E non c'è. Vedi peggone notissimi da Pianco, voi col bannoni desp этой comuni e sindaci sowiegete con fernamente... ...oi trusuke delle fabbriche e con tutti gli altri. Trusuke politici e delle caratteristiche tutte le rispondate su una spagna le risponde. Dammene uno a me, uno, uno. Sì. Ciao. Lo puoi dare? Ah sì, ma noi ce l'abbiamo, se vi vuole dare un giro. Allora sì, grazie. Lo posso? Sì. E come si levano? Postiamo. Ah, io l'ho dato. Grazie, ma bravo. Sì, grazie a tutti, grazie. Grazie a tutti.